Oggi a Olivetti Aperti ho una guida particolare, E-Yobbe, seguiteci. Ciao Leonardo! Ciao Alessio! Benvenuto! Vieni, accomodiamoci che ci riposiamo un attimo. Senti, che cosa troveranno quindi i nostri visitatori per Olivetti Aperti? Quello che proporrò è la Sunny Olio Experience, un pacchetto di esperienze diverse, comprendono la visita all'Olivetto, alcuni laboratori di cucina e erboristici. Il 18-19 giugno c'è anche la possibilità di pranzare o cenare con menù studiati a tema, con olio d'oppe a Riviera Ligure. Adesso ti do la targa di riconoscimento per Olivetti Aperti, che tu dovrai mettere qui in bella evidenza per i tuoi ospiti sul cancello. 18-19 giugno, mi raccomando, seguiteci sui social. Ciao!